Sanificate l'intero edificio di via Brenta e la richiesta della Camera Civile Salentina e del Presidente Salvatore Donadei tramite una nota diffusa a mezzo stampa in seguito alla comunicazione della positività di un funzionario del Tribunale Civile di Lecce. Nella nota si legge il funzionario positivo probabilmente ha circolato a lungo nei locali del Tribunale Civile quindi è necessaria la ricerca e il tracciamento di tutti i contatti da definirsi stretti con tutte le conseguenze del caso. Il rispetto alla tutela della salute umana venga posta in cima ai valori del diritto e di un indignitoso ambiente di lavoro per tutti. Sulla vicenda interviene anche Rizzo, Presidente della Comsalunza. Abbiamo evidentemente espresso, dichiara la nostra preoccupazione a tutti gli attori interessati e come Unza siamo ora impegnati nel concludere al più presto in tutti gli uffici la contrattazione e l'attuazione del lavoro agile emergenziale che non può né deve ormai essere ulteriormente ritardato.